Organizzata dal MG Bike Molini Girola in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale Domenica andrà in scena a Fermo la quarta cicloturistica in mountain bike del Fermano circuito in mountain bike 4M e l'ottava prova di questo circuito per quanto riguarda questa bellissima manifestazione cicloturistica in mountain bike aperta a tutti gli enti della consulta, partecipazione anche a non tesserati il ritrovo alle ore 7.30 presso la sede Contrada Molini Girola in zona Conceria a Fermo saranno a disposizione docce sia per uomini che per donne naturalmente la quota di iscrizione è di 15 euro per i tesserati con pacco gara e pranzo e di 10 euro per coloro che invece vorranno solo il pacco gara verranno premiati i gruppi più numerosi fino al sesto posto, il più anziano e il più giovane ci sarà infine all'interno di questa manifestazione anche una lotteria ben fornita noi a questo punto per la presentazione di questa quarta cicloturistica in mountain bike del Fermano organizzata dalla MG Bike del presidente Patrizio Perticari andiamo a sentire cosa hanno detto il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e l'assessore allo sport sempre del comune di Fermo Alberto Maria Scarfini domenica prossima quarta edizione della cicloturistica del Fermano organizzata dalla MG Bike di Molini Girola un altro bel appuntamento con il ciclismo qui a Fermo sindaco Paolo Calcinaro una bella manifestazione sì, tifiamo assolutamente per questa manifestazione che ha portato molti ciclisti negli scorsi anni veramente un ringraziamento alla MG Bike per il loro impegno crediamo che anche la qualità dell'iniziativa sia veramente importante speriamo nel tempo ma c'è tempo per rifarsi domenica prossima andrà in scena la cicloturistica del Fermano per l'organizzazione della MG Bike e delle altre società affiliate sarà un'ulteriore prova per quanto riguarda il circuito 4M quest'anno ha avuto un grande successo Alberto Maria Scarfini hai sempre partecipato non puoi esimerti quest'anno allora cosa ne pensi di questa bella manifestazione che ci sarà domenica mattina 17 settembre penso quello che pensavo l'anno scorso e l'anno prima che è una stupenda manifestazione salvo imprevisti ci sarò con tutti gli organizzatori Patrizio, Giovanni ormai si è staurato un feeling incredibile sarà bello magari andare un bel gruppo dell'amministrazione consiglieri, assessori, amici della maggioranza per stare in mezzo ai partecipanti scoprire questo nuovo percorso che forse cambierà quest'anno che Giovanni preparerà e quindi sarà sicuramente una bellissima giornata buongiorno 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 Grazie a tutti.